Buongiorno e benvenuti. Il 2022 è stato uno degli anni peggiori di sempre per il classico portafoglio 60-40, composto cioè da azioni per il 60% e da obbligazioni per il restante 40%. Allo stesso tempo le correlazioni tra diverse classi di attivi continuano ad aumentare, il che rende la diversificazione sempre più difficile. Quindi come dovrebbero comportarsi gli investitori in un tale scenario? Ne discutiamo oggi con Giulio Renzi Ricci, responsabile asset allocation di Vanguard in Europa. Giulio, che cosa è successo al classico portafoglio 60-40 in quest'ultimo periodo? E secondo voi lo vedremo risorgere dalle ceneri oppure serve un cambio di paradigma? Certo, il portafoglio 60-40, diciamo nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, è stato messo a dura prova proprio per gli elementi che citavi, legati essenzialmente la correlazione. Quindi è una correlazione che era stata principalmente negativa a partire dagli anni, dalla fine degli anni 90, tra l'azionario e l'obbligazionario, ha visto crescere, salire molto, diventare in ambito positivo, fortemente positivo, a cominciare con la pandemia e poi chiaramente con la politica monetaria che è stata adottata dalle banche centrali appunto negli ultimi paio d'anni. Questo l'ha messo a dura prova perché proprio quando l'azionario stava soffrendo, anche l'obbligazionario a quel punto soffriva proprio perché l'amento dei tassi di interesse andava a incidere su il rendimento complessivo totale degli indici obbligazionari, ad esempio. Quello che crediamo è che, date anche le nostre previsioni per quella che sarà l'inflazione nel futuro, consideriamo un ritorno alle correlazioni negativi che sono state storiche tra azionario e obbligazionario, principalmente perché non ci aspettiamo che la politica monetaria, specialmente la politica monetaria per i paesi sviluppati, sia fondamentalmente molto diversa nel futuro da quella che è stata negli ultimi vent'anni, cioè fondamentalmente basata su inflation targeting, su gestire le aspettative di inflazione e su una politica che noi consideriamo reattiva, che è molto diversa dalla politica monetaria che ad esempio veniva fatta negli anni 70 o negli anni 80, cioè una politica monetaria che si adatta e reagisce a quelli che sono gli avvenimenti nell'economia reale e che quindi segue il ciclo economico e non cerca di dettarlo. Ecco allora, lo abbiamo detto, i coefficienti di correlazione sono aumentati ultimamente, ma come dire, perché e in quale modo si deve tenere in considerazione questo aspetto quando si gestisce un portafoglio? Si deve tenere in considerazione perché in un portafoglio multi-asset, appunto quindi composto da azionario e obbligazionario, minore la correlazione tra le due asset class, maggiore è la frontiera efficiente, quella che viene chiamata in gergo la frontiera efficiente, cioè vuol dire che per ogni dato livello di rischio si può raggiungere un rendimento atteso maggiore. Quando la correlazione è più alta e quindi magari passa da livelli negativi intorno al meno 7% o meno 10% a livelli fortemente positivi come 30%, questa frontiera efficiente si abbassa, il che vuol dire che il rendimento atteso, aggiustato per il livello di rischio è più basso. Quello che abbiamo notato con l'analisi che abbiamo fatto è che per esempio un portafoglio 60-40, ma lo stesso principio si applica anche a portafogli multi-asset bilanciati con altre percentuali di azionario obbligazionario, è che quel impatto della correlazione sui benefici di diversificazione per carità esiste, ma non è magari così accentuato come la maggior parte degli investitori potrebbero aspettarsi. Quindi giusto per fare un esempio che l'abbiamo citato in uno dei nostri articoli, una correlazione tra obbligazionario globale e azionario globale che passa dal meno 7% che sono i livelli che abbiamo visto più o meno di media negli ultimi vent'anni a livelli di più 33%, questa correlazione che era più quella in linea con gli anni 90, un portafoglio che sarebbe stato 60-40 adesso diventa 62-38 con una perdita percentuale circa del rendimento atteso 0.5. Quindi sì, un impatto ma non magari così sostenuto come la maggior parte degli investitori potrebbero pensare. Perché? Perché quello che importa è che la correlazione non sia uguale a 1, cioè che non sia una correlazione del 100%, questo è l'elemento principale di diversificazione nel portafoglio a livello multi-asset, ma chiaramente si applica anche alle singole asset class. Fino a quando quella correlazione è sotto l'1% ci sono benefici di diversificazione. Certo, chiarissimo. Ecco, per chiudere, da un punto di vista operativo, in questo momento qual è il modo migliore per diversificare la propria asset allocation, secondo voi? C'è chi sostiene di dover aggiungere strategie alternative, materie prime, eccetera. Qual è la nostra posizione in merito? Noi crediamo che un punto di partenza di un portafoglio bilanciato multi-asset come può essere quello 60-40 con i principi legati a questo rimanga valido adesso e anche nel futuro. Chiaramente può essere aggiustato e quindi possono essere fatte correzioni ai margini a seconda di quelle che possono essere le preferenze e anche le circostanze di un investitore e se si vuole ad esempio adottare e aggiustare quel portafoglio per determinati obiettivi. Faccio un esempio. Sicuramente uno dei temi fondamentali principali dell'ultimo anno, l'ultimo anno e mezzo è stato un portafoglio che sia in grado di reagire all'inflazione non attesa. Sicuramente avere una componente, l'abbiamo notato anche nei nostri studi, di commodities, non necessariamente REITs, non necessariamente real estate, ma commodities, in portafoglio ha aiutato. Aiutato anche perché l'inflazione, quella che noi chiamiamo la headline inflation, era fortemente dettata dall'andamento dei prezzi dell'energia e quindi delle commodity, quindi era un particolare tipo di inflazione. Ma comunque anche in termini attesi, se quello che si vuole cercare di ottenere è un edge sull'inflazione non attesa, sicuramente una componente dei commodities può aiutare l'investitore. Tenendo conto però che come molte altre situazioni, quando si parla di portafogli di investimento, è un trade-off. Cosa intendo? Che i commodities possono sicuramente aiutare in un lungo periodo per appunto edgeare l'inflazione non attesa, ma tendono anche ad aumentare il livello di rischio del portafoglio multi-asset, perché hanno una volatilità maggiore. Quindi questo è un elemento che l'investitore deve tenere in considerazione e qual è appunto il trade-off tra i due. A edgearsi dalle inflazioni in modo più corretto, ma anche a essere coscienti del fatto che questo può portare ad un aumento complessivo del rischio del portafoglio maggiore. Grazie ancora a Giulio Renzi Ricci. Per Morningstar sono Valerio Baselli. Alla prossima.